ciao sono massimo sono il responsabile della categoria degli scarponi da scelpinismo in scarpa oggi vi presento il nuovo f1 questo è uno dei modelli di scarponi da scelpinismo più venduti nel mercato grazie al suo comfort e alle sue prestazioni abbiamo rinnovato l'estetica i colori per renderlo più attraente e aggressivo ma abbiamo anche migliorato lo scafo con l'estensione incollata che aiuta a ridurre al minimo la possibilità di interferenza tra lingua e scafo in questo modo la calzata e la chiusura dello scarpone sono operazioni molto più facili e molto più veloci f1 adotta la costruzione axel alpine evo e la tecnologia carbon core per migliorare la trasmissione degli impulsi sullo sci f1 è sempre dotato di una scarpetta intuition termoformabile un sistema boa per la chiusura della lingua sullo scafo e il sistema fast buckle closure sul gambetto per una regolazione perfetta e personalizzata per tutti i tipi diversi di volume del piede inoltre è disponibile anche nella versione femminile con i colori dedicati all'interno 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 all'interno